I gravi effetti collaterali dei farmaci hanno fatto sì che numerose persone si rivolgessero a rimedi naturali e alternativi nel trattamento dei loro problemi di salute. Tali rimedi sono completamente sicuri, economici e altamente efficaci, ma spesso richiedono più tempo per fornire gli effetti desiderati. Il coriandolo è uno dei rimedi naturali più benefici e popolari che è stato comunemente usato come rimedio naturale per livelli elevati di colesterolo, diabete, problemi al fegato e al pancreas ed eccesso di grasso corporeo. Inoltre è ricco di magnesio, ferro, fibre alimentari, vitamine C, E e calcio. Il suo uso regolare rinforza i denti, i capelli e le ossa e aiuta a sostenere la sana funzione cardiovascolare. Ecco alcuni dei numerosi vantaggi che offre. Controlla i livelli di zucchero nel sangue, elimina i metalli pesanti dal tuo corpo, previene lo stress ossidativo, migliora il sonno e cura l'ansia. Tratta le infezioni del tratto urinario, aiuta la digestione, previene l'accumulo di grasso nel corpo, previene il cancro al colon. Agisce come un potente diuretico, tratta le ulcere, tratta problemi digestivi e diarrea, migliora la funzionalità epatica. Il coriandolo previene l'accumulo di ossalati nei redi e la formazione di calcoli renari, allevia le irritazioni della pelle, tratta congiuntivite e altri problemi agli occhi. Preparare il seguente rimedio coriandolo a casa. E si eviterà la formazione di calcoli renari, abbassare i livelli di colesterolo alto e glicemia ed eliminare il grasso corporeo in eccesso. Ingredienti Una manciata di coriandolo Una pentola d'acqua Istruzioni Aggiungere il coriandolo tritato all'acqua bullita, lasciare raffreddare il composto e filtrarlo. Bevi questo tè durante l'intera giornata e raccogli tutti i benefici di questa erba. Grazie a te per averci guardato. Iscriviti per più video. Per favore, condividi e metti mi piace al video. Grazie a te per averci guardato.